perché ero la 9 che se ero la 7 o quel cazzo che ero ero vivo ed ero già ero mentalmente già da Brock qua ero mentalmente già da Brock arbitro anzi da Petra da Misty da quel cazzo che è la seconda troia da battere capo non dirlo allora con calma dai si scherza ovviamente questo c'è 23 di speed Energy Routing è il Nats vero? capo sei pazzo assolutamente sì and I think it's gonna be a long Magmortar col braccio alzato questo c'è Flamethrower no over it il Pokémon è buono il Pokémon c'ha mamma mia il Pokémon è buono punto esclamativo Barry per piacere in chat grazie capi allora Laguav confonde e meno SPD no questo gli tira un over it che lo manda da Mastro cazzo no arbitro non cominciamo dobbiamo lottare ma fa sempre 5 hit questo cioè no spiegami ma porco dio ma over it it a tutti nelle sfide copie che non mi ricordo invece è vero che ti droppa però it a tutti non mi ricordo oggi fino alle 4 4-5 maratona praticamente oggi stai scherzando vero come fa a resistere bro beh dai una mosso buona ho chiesto una mosso buona non la peggiore del gioco as you heard turning around non la peggioreIGN non le fove né che mi li il non 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 le di male in peggio quasi no ma come fa a resistere frate è 6 livelli in meno c'ho infinito special embarrassing turning around non è che ho così tanto special attacca effettivamente in pratica 2x no più del 2x insomma 38 è diverso a 30 è più tendente al 3x che al 2x ho il 2.5 al 2.5 non è né buono né male anche se i starom qua hanno tutti infinito special defense fra non si sa bene come ma pare essere così vabbè dann Cos'è arriva? Cos'è arriva la Lega che è un bidone zio cane? Un mezzo bidone Magari Bello mi sare No 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 Rigorosamente Acqua l'ultimo Pokémon Forse deve fare il World Boss Te lo dico io fra Deve fare questo il World Boss Mi stato Volevo fare Over It Io non mi spiego come facciano a resistere frate Comunque Il Pokémon arriva la Lega ragazzi No non lo so È che non c'è mossa Over It Over It è merda Octazook e Aircutter fanno sbocca as well Perché Miss Ne ha un poca power Cioè gli servirebbe Flamethrower Scald Cioè capito no? Eh rischio ma sti cazzi Se muoio muoio Me ne frega un cazzo Faccio due nasti qua Dai fra Al 18 lui Devo provare Over It Secondo me Oggi Stato bene Stargazer Stiamo facendo bene Oggi Il momento Mammi Quasi al 23 per Brock Frate Ti dico non è male 23 per Brock Buono Non ha mosse frate Non ha mosse Cioè Dovrebbe avere Scald Flamethrower Ice Beam Quelle sono mosse Cioè Aircutter Miss Missan tutte Over It Non la puoi usare Perché Almeno che non sia L'ultimo Pokémon Praticamente Quindi Purtroppo è quel che è Secondo me È un mezzo bidone Frate La realtà Cioè È un mezzo bidone Sto mon Non c'è le mosse Sto molto livellato Almeno Come fa C'è resistere Non c'è resistere Non c'è Where are you Io papà confonde Chat E non mi ricordo Almeno Def Più def Where are you No c'è Non c'è Un mezzo Un mezzo Un mezzo perché ti arrivano dopo un po' le uova ti arrivano dopo un po' le puoi vedere dal sito ti arrivano dopo 10 minuti un quarto d'ora ah è vero mi devo curare sto cercando di andare fast mi sono scordato di curare buono ma che acido acido è la mossa più brutta del gioco è Coid Voice con Nasty Plot è una hit che cazzo tolgo però Octazooka è una bidone di mossa porco dius sì mi potevo curare over the rainbow over the rainbow pezzato questo questo è pezzato cosa faccio oh no rischi mi ha grittato capo fai gli straordinari oggi sì sì oggi stremo un po' di più l'avevo detto faccio una live singola un po' più lunga oggi che riesco faccio un paio di stitrai cazzo un po' più lunga un po' più lunga ma bene buono easy ho la paglia frate ho la paglia with a cigarette bro with a fucking cigarette bro sono on fire capo siamo caldi siamo hot dammi sto cazzo di thunderbolt imperius mi manda le pre a farsi esplodere ragazzo ma vaffanculo ma porco dio mi ero arcoti il cazzo succhia io prendo le camel blue di solito le camel blue le merit dipende da cosa mi tira il culo quando mi capita poi io in realtà fumo poco prenderò due pacchetti al mese mi capita che mi piglio un pacchetto ma me lo stecco in tutto quel giorno in una sera capitano due tre giorni al mese che c'ho voglia di così mi piglio un pacchetto e me lo stecco tutto in quella sera sempre stato così over it ma riesco anche a stare due mesi senza prenderne uno cioè capita periodi dove per due mesi non ne tocco uno cioè non è che ho una dipendenza ora non fumo neanche cioè non bevo neanche ho smesso anche di bere qualsiasi forma di alcol da due settimane ora di nuovo per dimagrire più velocemente se ho cane quando rinperius si sveglia povero rinperius con volpesco gli facciamo i tronconi di solito sempre ben munito il capo il capo il goat buono gucci gucci full clear full clear full clear siamo caldi siamo caldi siamo hot lancia fiamme vado a dar fuoco ai pokemon nemici cosa pensavi dicessi uno di vita è rimasto assurdo farebbero bene ad alzarle così i coglioni che fumano gli passa la voglia mai compreso seppur poche volte farebbero bene a voglia ma magari le mettessero a 10 euro te lo dico da persone che ogni tanto le prende dopo ti passa la voglia no 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 gilamon che a londra quanto le pagate lì un pacco di sigarette quanto costa tanto abita 50 minuti dalla slovena io quando ero andato in Bulgaria mi ero preso le stecche anche io delino circa ho 7 godegg lo bisogna vedere magari sono dei bidoni quelli che escono world boss fatto si se mi vedete da misti vuol dire che il world boss l'ho fatto perché lo faccio con ogni pokemon ieri con Arceus abbiamo vinto perché abbiamo fatto il world boss se non l'avessimo fatto non avremmo vinto la chat non farlo non farlo non farlo è gratis cristo il world boss non capisco penso di averlo passato 20 volte su 21 cioè zio spero anche non mi faccio mosse se devo setappare grazie ho finito i pipì ottimo ora meno buono vabbè che sto a 170 di special gli mancano 2 poca 3 poca qua forse devo tenere più a koid no 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 con la sigaretta frate con la ikos no laicos non ha da pierce laicos no 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 mirror coat tu ma parla tu ma mirror coat stronzo tu ma dioko bravo fai memento stronzo buono mi servirebbe mi servirebbe un cazzo di full restore avere una cuore in più e finirla quest devo tirare un pp max su echo it voice è una bomba over eating tu ru tu ru tu ru tu ru tu 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 when it's burning no when it starts no porco dio too nervous to eat berries ti mangio la la vita però mi serve una mi può dare flame travel il gioco no but i tono it's just a pokemon come 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 no no man when you go to so fast when you send touch lida yes when you send ma due pokemon 1 a 2 cazzo non devo sono stato ritardato ritardatario anzi ma sono infattibili però per far tutti i try non devi vivere se vuoi far fatti bene non devi vivere mamma mia devo stappare probabilmente avevo un pp max sta run non mi pareva avevo un pp max trovato no ma si pp max hai ragione hai ragione sono talmente fuso frate che manco l'ho visto quando sei missing home Oh Dio frate non ci ho fatto caso Siamo da più di sette ore in live Non mangio da ieri sera C'ho una fame porca Dio can Lascia stare vai Tutto il rispetto Fottiti Cristo immondo E' il capo palo è questo raga Merda non ho fatto caso Se il capo palo è l'ultimo trainer No ok Solo che che palo è bronzong Come primo frate Vabbè è vero te lo dico E' una palla bronzong come primo Perché se faccio veriti mi droppo E puoi fare il secondo Una rottura di cazzo Porca madonna Cioè ho trovato tre arceustre Praticamente tra i primi trainer Cioè ma stiamo scherzando frate Va bene Non mi dovrebbe levare troppo Vado a più 6 A più 4 almeno Più 6 Più 6 echoed voice Via I believe in you con la sigarette bro con la sigarettonici soul sister i'm moving fey you know hey soul sister rock breaker rock breakers it mounchants rock breakers endevior dio infame stronzo non cado in trappola frate non cado in trappola cazzo voltiti moon max pozza la papaya merda lo flamingo si proprio lui il lo flamingo bro full clear eh si prova a fare il full clear qui siamo pazzi sei sberne la più forte frate ma con la paglia la faccia è buono l'ability for warm su uno che ha la setup perché capisci se ci sta a farlo o no la setup non è male come roba vero? come fa a resistere frate sto a più due zio cane con la quarta coi voice barassing siamo matti katana siamo matti siamo inarrestabili stiamo entrando nel prime sta tranquillo cazzo siamo inarrestabili porco dios dio boia fuck io voglio sempre full clearare ogni cosa poi rischio dio cam però perché sono uno stronzo il nannone oddio il nannone è difficile frate portare di stream se voi lo sento però non è che faccia gli stessi contenuti play me now are you with me dai brother solo col crit avevo l'ultimo ci stanno sti cazzi devo usare un full rest altrimenti solo col crit venivo giù un po' rischiata ma ci sta ci sta ci sta a parte che secondo me le run dove passo brock forse farei prima resettarle perché non ho droppato uova buone però 3.30 l'ultimo Grazie a tutti.